story time evoluzione radio amici di story time un saluto da gianluca ben ritrovati in nostra compagnia siamo qui nel nostro salotto e siamo in compagnia di emanuele ciao ben trovato ciao gianluca grazie allora emanuele è propersi ideatore del servizio editoriale e bookness allora intanto raccontaci un po chi sei qual è stato il percorso e poi parleremo appunto di questo servizio editoriale sono un ex ingegnere gianluca che nel 2009 ha avuto l'idea di scrivere pubblicare un romanzo che ha avuto un discreto successo allora hanno iniziato a contattarmi gli scrittori per chiedermi come avessi fatto io a vendere tutte queste copie e da lì ho visto uno spiraglio di business basato sulla mia passione la scrittura ho creato quindi un sito scrittore vincente poi sarà il publishing vincente infine nel 2017 bookness il servizio editoriale a cui facciamo riferimento azienda che aiuta appunto imprenditori professionisti a crearsi un libro appunto come strumento di marketing poi alla fine come in effetti avevi fatto te con l'esempio iniziale allora in effetti qual è quindi il core business di questa azienda e di questa attività con bookness oggi aiutiamo imprenditori professionisti formatori e coach a munirsi di un libro strategico grazie al libro potranno avere più autorevolezza più visibilità e più vendite benissimo ecco che detta così però ecco in effetti è un è un percorso abbastanza articolato insomma per la creazione di un libro quindi com'è che state dietro al singolo professionista o al singolo imprenditore a creare il libro ha individuato il punto che determina il successo di bookness è una cosa complessa che l'abbiamo ressa semplice attraverso un'intervista iniziale di circa tre ore otto volte su dieci siamo in grado di scrivere per un imprenditore un libro di oltre 150 pagine in circa un mese un mese e mezzo questo libro grazie al nostro servizio sarà pubblicato in italia in tutto il mondo in cartaceo in ebook sarà distribuito alle librerie sul territorio e da lì in avanti l'autore imprenditore vedrà questo libro magari con la propria immagine in copertina con il proprio nome lo utilizzerà come strumento veramente per essere più autorevole per essere percepito come riferimento nel proprio settore in questa maniera sarà più facile vendere sarà più facile spiegare il proprio servizio sarà più facile aumentare le conversioni in vendita ciò significa più utili e non dico più fatturato dico più utili perché si vendi di più ma si semplifica il marketing si abbattono anche i costi benissimo benissimo allora diamo intanto alcuni contatti alcune coordinate amici eventualmente per saperne anche di più ecco su facebook troviamo questa pagina scrittori vincente già ci spiega tante cose quindi poi su instagram e tik tok e linkedin emanuele propersi potete contattare il 32 758 501 1 2 e poi sito internet book ness punto it info c'è la book ness punto it ecco a porto santo elpidio quindi c'è la base sostanzialmente si a parto santo elpidio c'è la base operativa lì proprio dove gestiamo i nostri progetti incontriamo anche i nostri autori abbiamo anche un servizio aggiuntivo di spedizione per book funnel per servizi dove il libro deve seguire delle vie più private rispetto alla distribuzione ordinaria poi abbiamo una sede legale a roma a roma in piazza san lustio in due bassi del centro legale a roma la sede operativa appunto siamo nella provincia di fermo ma se ci fosse ancora un professionista un imprenditore non convinto dice no ma io in fondo non c'è che cosa gli potresti dire perché si deve rivolgere alla tua azienda ma si deve rivolgere alla mia azienda perché oggi più di ieri i costi pubblicitari aumentano in ogni ambito fare le pubblicità su facebook fare un video pure ti dicono fai un contenuto al giorno diciamoci la verità Gianluca è un bagno di sangue è uno sforzo in mani il libro ti semplifica tutto il libro col nostro sistema innanzitutto è pubblicato su oltre 100 siti online e già non serve più indicizzazioni link building la seola sem pippo e pluto e in più ti semplifica proprio utilizzi il libro per spiegare la tua attività utilizzi il libro per vendere i tuoi servizi e prodotti e dall'altra parte che tipo di obiezioni hanno non hanno più obiezioni perché ogni voce dell'indice risponde a tutte le obiezioni del cliente non ti sta più nemmeno a spiegare per ore e ore i tuoi servizi perché il libro spiega tutto c'è una risposta per tutto appunto come un buon libro ci sono anche però gli esempi perché allo stato attuale stiamo parlando già di più di 1100 libri che avete pubblicato sì in realtà ne abbiamo pubblicati più di 3000 dal 2015 1100 libri li abbiamo scritti e pubblicati e pubblicati ovviamente noi abbiamo un patto di riservatezza con gli autori certo in cui non è che diciamo questo libro lo abbiamo scritto noi però mi permetto siamo così bravi da fare in modo che chi legge quel libro individua l'autore esattamente come colui che l'ha scritto tuttavia quello che posso dire generalmente è che abbiamo pubblicato libri tra i più importanti imprenditori formatori ad esempio di recente abbiamo pubblicato i libri di lucia giovannini che è l'autrice sul miglioramento personale che più ha venduto di sempre in italia oh ecco e quindi lei ha pubblicato per tanti anni un mondadori sperling e cufer le ultime pubblicazioni le ha deciso di farle con bookness perché con bookness ha dei vantaggi enormi i guadagni dalle coppie vendute sono dieci volte superiori a quelli dell'editoria tradizionale i guadagni uno li può incassare dalle coppie vendute a fine mese regolarmente non con dei conguagli incerti a fine anno poi esatto non si sa mai esatto oppure il controllo delle vendite può essere effettuato in tempo reale si collega a una semplice pagina web e vedi quante coppie ha venduto le coppie autore le coppie per uso personale che ogni editore ti rivende col 30% di sconto circa col nostro sistema costano solo il costo di stampa il costo tipografico il libro di 150 pagine è circa 2-3 euro a copia quindi fai una presentazione 20-100 copie faccio i conti tondi per semplificare e se il libro costa 20 euro già solo con una presentazione incassi 1800 euro ecco e questo è importante ma non per i soldi esclusivamente Gianluca ma perché questo tipo di presentazione permette poi di prendere questo budget e reinvestirlo in pubblicità alimentare la vendita del libro e quindi continuare a reinvestire ovviamente sul libro su se stessi su nuovi eventi chiaramente tutto questo può dare una spinta ulteriore questo meccanismo sembra già molto ben oliato del resto sono già diversi anni quali possono essere ulteriori step progetti per il futuro di bookness si bookness vuole allargarsi sempre di più ed arrivare anche a ulteriori professioni ulteriori imprenditori che magari non hanno visto il libro ma per una questione di abitudini se secondo me per una distorsione culturale io parlo delle pmi anche le aziende sul territorio già ne abbiamo aiutate tante tipo negozi pizzerie ristoranti queste attività gelaterie parrucchierie estetiste che sono le più diffuse sul territorio nazionale italiano già molte di queste abbiamo fatto dei libri però il mio scopo è quello di aiutarli ancora di più per fare in modo che anche la loro storia non vada dispersa ti dico un'ultima cosa prego è interessante un mese fa stavo parlando con un imprenditore di rimini a più di mille dipendenti e lui mi ha fatto un'osservazione molto interessante abbiamo fatto la presentazione del suo libro che tra l'altro è andata su striscia la notizia nelle mani della michelle utzinger ha avuto una bella esposizione lui mi ha detto si chiama giulio d'angelo ma pensa una cosa emanuele se gli antichi egizi ci avessero lasciato il manuale delle piramidi quanto sarebbe stato impattante e importante per la nostra cultura eppure questo manuale non ce l'abbiamo ancora oggi ci chiediamo come avessero fatto a costruire queste piramidi questo per dire se ogni imprenditore ogni negoziante ogni persona che ha un'attività lasciasse questa eredità conoscitiva come ha fatto per fare le cose come ha fatto per crescere per dare valore per aiutare gli altri con la sua esperienza con i suoi servizi con i suoi prodotti questo è un patrimonio culturale enorme ed è quello che facciamo con bookness fare in modo che non vada disperso ma soprattutto fare in modo che vada utilizzato in maniera costruttiva anche per le altre persone per le generazioni e futuro le altre generazioni certo perché un libro è per sempre assolutamente e beh l'esempio delle delle piramidi in effetti calza ancora e rendiamoci conti quanto quanti migliaia di anni sono passati allora emanuele qualche saluto qualche ringraziamento che vuoi fare sì voglio ringraziare tutti ovviamente gli imprenditori che ci hanno dato fiducia in questi anni e che ci hanno permesso di crescere diventare l'azienda leader in italia per la creazione di libri strategici voglio poi ringraziare tutte le persone che lavorano nel nostro team circa 40 scrittori certo e tutti i miei collaboratori più vicini e voglio ringraziare anche la mia famiglia che mi ha supportato nel passaggio da dipendente a imprenditore e insomma sicuramente tante persone ovviamente tutti abbiamo bisogno della vicinanza dei nostri cari emanuele grazie a te per essere stato qui in nostra compagnia nel salotto di story time e voi amici continuate a seguirci naturalmente anche su radio italia 5 da gianluca un saluto e alla prossima story time evoluzione radio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti